Capito? D'accordo. Ok, allora, tuo padre è un predicatore e sa tantissime cose, ma non sapeva che Gesù avesse un cavallo. Questo non lo sapevo. È bellissimo. Ah, sì? E di che colore è? È di tutti i colori. In Paradiso ci sono tutti i colori dell'arcobaleno, però sono più... Più cosa? Sono di più e più brillanti. Come fai a sapere del suo cavallo? Perché l'ho vista in Paradiso. Tu sei stato in Paradiso? Papà, possiamo parlare domani mattina, perché io adesso tanto sono. Va bene, va bene. Papà, posso dormire in camera tua stanotte? No, no, dormi nel tuo letto. Dormite tardi, ragazzi. Buonanotte. Lascia la porta aperta. Scusa. Dormi. Colton mi ha detto che è stato in Paradiso. Cosa? Quando? Me l'ha detto prima. No, quando... Quando è stato in Paradiso? Mi ha raccontato che durante l'operazione ha lasciato... Ha guardato... Adesso... Lui ha una bellissima immaginazione. No, 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 no. Non, no, 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 no. Para... Grazie a tutti.